Doppio vantaggio della Trapani-Shark che fa valere forza e fattore campo. Venerdì il primo match ball per la promozione a 1 alla Paladozza che si preannuncia rovente. Buono l'abbio di Bologna ad accorciare le distanze una tripla del capitano Marco Mollura. Resta comunque una partenza decisamente troppo debole della Shark che ha faticato a chiudere l'aria e in attacco non è stata precisa come di consueto. Male anche a rimbalzo, tante doppie occasioni concesse agli emiliani che si sono portati sul più 11. Anche Mobi assegna sul finale del periodo 18-28. A scuotere Trapani ci ha pensato ancora una volta J.D. Notei. Tripla delle 25-29 chiamata del time-out per Kaia. Tripla di Ogden dall'angolo per il 25-32. Morbillo realizza poi due liberi che riportano Bologna sul più 9. Assegna Notei in contropiede e ancora time-out per il bianco-blu. Tanta imprecisione dall'anuletta per Trapani. Trapani bolgia al Palaszark in seguito a due criticate decisioni degli arbitri su falli e rimesse. Pioggia di fischi dagli spalti. Trapani è riuscita comunque a ricucire parzialmente il distacco e a mettere la ciliegina sulla torta Stefano Gentile con la tripla del 38-41 allo scadere del secondo quarto. Sul 40-46 tecnico per Coach Kaia che ha concesso quindi due liberi a mollura realizzati e possesso a Trapani. Tre falli commessi da Bologna in meno di tre minuti, uno su due per Alibegovic e punteggio sul 43-46. Basse percentuali al tiro da ambo le parti, poi punteggio sbloccato dai tre punti di Taflai. Arriva a 2-11 dalla termine del terzo quarto il primo vantaggio di Trapani. Una tripla di Marini che ha portato I Granata sul 52-51. Soltanto uno su due di Freeman dalla nuletta ed è parità. Nell'ultimo periodo si va punto a punto, nuova parità raggiunta a 1-26 con i due liberi realizzati da Ogden. Poi tre liberi realizzati da Notea, 13 secondi dalla fine, 72-69. Fondamentale il fallo conquistato da Gentile a 8 dal termine che ha permesso a Granata di avere il possesso, poi sprecato uno su due dalla nuletta per Bologna e 72-70 il finale. Siamo sicuramente contenti della vittoria, abbiamo mantenuto il fattore campo e questo era il nostro obiettivo. Riguardo la partita di stasera, a livello di prestazione non posso essere contento, ma perché non siamo questi. Voi avete visto nelle altre partite che squadra siamo e la prestazione di stasera non è stata come le altre. Sicuramente complimenti alla Fortitudo per averci messo in difficoltà, però ripeto, non siamo questi e vogliamo tornare a essere noi stessi venerdì a Bologna.